Allora, mi trovo qui in questo momento, in testa a furtezza, chi non so cos'è, eh? Ho girato tanto, è un'ora che giro, è un'ora che giro intorno perché ho perso la chiave della macchina. Allora, eh? Ho perso la chiave della macchina, è sparita, è sparita, non c'è più da nessuna parte. Ho visto un'altra volta nei container, laggiù tutto abbandonato, in quel villaggio dei Zengri, dei container. Ho guardato dappertutto per terra. Sono venuto dentro la chiesa, che una volta c'era la lode a Gesù, la lode a Gesù continua. E sono venuto dentro la chiesa, grazie a Gesù, l'ho voluto riprendere questo pezzo, grazie a Gesù. Ecco qua, c'è le chiavi, guarda dove erano andate a finire. Prima, quando mi sono piegato per recitare la coroncina, mi è cascata per terra perché evidentemente l'ho messo nella saccoccia dietro delle cinze, no? Siccome i cinze a vita bassa, è cascata giù per terra, le chiavi me le ho perse chi? Io a voglia, ho girato tutti un'altra volta i container, mi sono fatto una sudata che non finisce più, un caldo non te dico. Poi è freddo, ho caldo perché ho girato dappertutto, mi stavo a smattire, ho detto io Gesù non mi perdo d'animo. Per intercessione di tua mamma a Maria e mia mamma ti chiedo la grazia di farmi trovare le chiavi. Eccole qua le chiavi. Guarda, grazie Gesù, ho voluto ripiare questo pezzo perché è molto importante, guarda. Perché noi non ci dovemmo mai scoraggiare e perdere d'animo. E nel nome di Gesù Cristo noi dovemmo chiedere le grazie di cui avemmo bisogno, però col cuore dovemmo chiedere. Ho girato tutto dappertutto, tutte le stanze mi sono fatto qui dentro. Sono andato dappertutto, non c'era da nessuna parte, dentro la chiesa. La casa di Gesù dove è che dimorava l'agnello immolato, colui che toglie i peccati del mondo. Grazie Gesù, l'ode per sempre, onore a te. Grazie Gesù. Grazie, ti amo sopra ogni cosa Gesù. Grazie a tutti.